Inversione sinistra Destra che diventa Shikhan destra 20 Destra 3 che diventa 2 chiude 2 chiude Per sinistra 3 meno 3 meno E accenno destro vai giù 80 ritarda sinistra 2 tieni Sinistra 2 tieni 20 stai sinistro per destra 3 Apre lunga lunga e diventa 2 chiude tieni 2 chiude tieni Per subito sinistra 2 Sinistra 2 E sinistra 3 meno E destra 3 chiude 3 chiude 3 chiude 20 Imposta sinistra 4 Per ritarda destra 3 tieni E Shikhan sinistra 3 tieni e Shikhan sinistra 100 avvista 100 avvista E in attenzione stacca inversione sinistra Stai di qua Stai di qua Inversione sinistra 20 Destra E subito sinistra 2 gira E subito sinistra 2 gira 50 destri E imposta Destra 2 Ascoltami Destra 2 100 sinistri E alla balla Sinistra 2 80 Sinistra 2 80 E attenzione Destra e sinistra 2 Occhio Destra e sinistra 2 E subito Accendo destro E testa 3 lunga Che diventa 2 chiude Diventa 2 chiude Qui 2 chiude E sinistra 2 vai Sinistra 2 30 Destra 2 Non leva 100 Destri E sinistra 2 Sinistra 2 Per destra 2 E stai sinistro Interno Occhio Destra 2 E subito Shikan E sinistra 3 Lunga diventa 2 3 lunga diventa 2 E destra 2 Più più 2 Più più E sinistra 2 Gira Qui lì alla balla E ritarda Destra 4 Prendi la corda Destra 4 200 E in versione sinistra Versione destra Accendo destro e sinistro Calmo calmo Stefano 80 Cicanna stai sinistra Entra destra 200 A vista E stai destra Per ritarda Ricorda Alla sinistra 3 Tieni corda Alla seconde gomme Alle seconde gomme Tieni corda 50 Giù 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 E attenzione E ritarda Destra 3 Lunga 3 lunga Che diventa 2 Qua giù Chiudila Giù 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 Accendo sinistro 50 E anticipa Destra 3 Anticipala Anticipala E ritardala questa Destra 3 Che chiude il rosso Ritardala Destra 3 Chiude il rosso E sinistra piena Piena 100 E attenzione Accendo destro Inversione sinistra Inversione sinistra Occhio c'è una valla eh Inversione destra E 200 200 E stai destro Occhio per sinistra E destra Sinistra E destra Inversione sinistra E 500 A vista E accenno Sinistro E ritarda Destra 4 Ricordala Che chiude laggiù In fondo Chiude qua giù In fondo Chiude qui Qui chiude E accenno sinistro Pieno Accenno sinistro Pieno E 500 E attenzione Chicane Stai destro Entra sinistra Stai destro Entra sinistra E ritardala Destra 3 Tieni la corda 3 Tieni la corda E 200 E 200 200 Via 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 E inversione sinistra E inversione destra E accenno destro e sinistro e 80 chicane stai sinistra entra destra e 200 a vista e stai destra e ritarda sinistra 3 tieni corda alla seconda gomme giù 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 e ritarda destra 3 lunga 3 lunga che diventa 2 qua giù 2 qua giù chiudila ora e via 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 accenno sinistro e destra 3 anticipala e ritarda la destra 3 questa ritardala ritardala che chiude il rosso ritardala e poi c'è la sinistra piena via 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 e qua giù c'è l'accenno destro per l'inversione sinistra occhio alla balla eh spostata e via 200 stai destro per ricorda la sinistra e destra e inversione sinistra sinistra e destra e inversione sinistra e via 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 si gira senza freno a mano stefano 500 accenno sinistro e ritarda ritarda la destra 4 che chiude giù in fondo eh chiude laggiù in fondo e poi c'è l'accenno sinistro pieno via 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 500 e in attenzione chicane entra destra e ritarda destra 3 che tiene la corda 3 che tiene la corda e 200 via 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 200 in versione sinistra e inversione sinistra e inversione destra secco occhio dietro eh e qui c'è la chicane destra e 200 a vista 200 a vista sinistra 3 tieni la corda alle seconde gomme eh alle seconde gomme e destra 3 lunga che diventa 2 qua giù in fondo eh calmo e ora via accenno sinistro e 50 e anticipa la destra 3 eh anticipa la e ritarda e ritarda a destra 3 che chiude il rosso 3 che chiude il rosso e poi c'è la sinistra piena e poi c'è il 100 per l'accenno destro e l'inversione sinistra inversione sinistra inversione sinistra inversione testra inversione destra inversione destra 200 e stai destro per sinistra e destra e inversione sinistra e via 500 accenno sinistro e ritarda la destra 4 che chiude in fondo chiude qua giù in fondo chiude chiude e accenno sinistro pieno e 500 e chicane destra entra sinistra e via e destra 3 tieni la corda giù 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 200 a vista ora si esce qua giù in fondo ti fa passare vai destra e accenno destra e sinistro e chicane destra scusami 200 a vista e stai destro ora si esce Stefano e ritarda la sinistra 3 ricordala la seconda gomma e poi c'è l'inversione sinistra oh oh buono e e Grazie a tutti.